Musica Covid, contagi in calo ma aumentano i ricoveri, scende l'incidenza in Campania. Nell'ultimo bollettino quasi 12.000 positivi e 7 vittime. Continuano a crescere invece gli accessi in ospedali. Il rione sanità ha successo per la notte bianca dei vaccini. Bosco Reale ricorda Antonio mai più criminalità l'iniziativa di Libera ad un mese dall'uccisione del pescivendolo morto durante un tentativo di rapina. Lancio di palloncini bianchi e l'accensione del cero della giustizia per ribadire l'impegno contro ogni forma di illegalità. Il Sannio ha raggiunto il picco dei contagi. Lo studio del CNR sulla pandemia consegna segnali incoraggianti per la provincia di Benevento ma al Sampio ci sono sei nuovi ricoveri e Mastella si dice preoccupato per la pressione sugli ospedali. Salerno gemelli nati da mamma positiva, evento eccezionale al Ruggi salvata a una donna di 57 anni in arresto cardiaco. I piccoli trasferiti al Monaldi stanno bene. Concluso lo screening di massa in costiera amalfitana, oltre 50 studenti positivi al Covid. Avellino contagia anche in Corsia. All'ospedale Moscati sono un centinaio i positivi al virus, tra questi anche il direttore sanitario Lanzetta. Trasferiti nei reparti Covid tre pazienti di ematologia, intanto in provincia si registrano altri 453 casi. Il Napoli avvalanga Benevento, ora il riscatto, finisce 4-1 il derby campano. La Salernitana regge un tempo, poi crolla e protesta per gli episodi. Terza vittoria consecutiva per gli azzurri in Serie B, Brignola. Calica è il Benevento contro il Parma per il riscatto. E questi erano i nostri titoli. Buonasera, buona domenica. Dal Tg regionale del canale 696 in apertura il Covid in Campania, cala la curva dei contagi. Nell'ultimo bollettino poco o meno di 12 mila positivi e 7 vittime. Ma continuano ad aumentare i ricoveri. Intanto ancora un successo per la notte bianca dei vaccini al rione Sanità. Vediamo. La sensazione degli esperti è che la Campania abbia raggiunto il cosiddetto plateau di quella che è stata ribattezzata la quarta ondata. E che, se la tendenza dovesse essere confermata, ci si avvicina alla fase meno complicata dell'emergenza Covid. Nell'ultimo bollettino sono poco meno di 12 mila i nuovi positivi registrati, a fronte di circa 88 mila test eseguiti tra tamponi antigenici e molecolari. Il tasso di incidenza cala dunque al 13,4% rispetto al 15,3% del giorno precedente. Nel report dell'unità di crisi si contano anche 7 decessi, 5 dei quali nelle ultime 48 ore più altri due avvenuti in precedenza. Sul fronte ricoveri, invece, il leggero calo, le terapie intensive, mentre continuano a crescere quelli nei reparti ordinari. Intanto continua la notte bianca dei vaccini al rione Sanità. Oltre 500 le dosi somministrate e 22 tamponi positivi riscontrati. In tanti hanno aderito all'iniziativa promossa dalla Farmacia Mele e dalla Rete dei Commercianti San Gennaro. Come nella settimana precedente, la Basilica di San Severo è rimasta aperta per volontà dei parroci, per consentire la sosta alle persone in attesa del vaccino. L'obiettivo dei promotori è quello di garantire la sicurezza sanitaria e dunque di non penalizzare ulteriormente l'economia del rione, già messa a dura prova dalla pandemia. Una messa in Duomo celebrata dall'arcivescovo di Napoli, Don Mimmo Battaglia, per ricordare i defunti che erano nelle nicchie coinvolte nel crollo delle due congreghe di San Gioacchino e dei Dottori Bianchi nel cimitero di Poggio Reale, avvenuta il 5 gennaio scorso. Il vescovo ha ricevuto i parenti dei defunti che stanno lottando per dare un nome ai resti abbandonati. Seppellire tutti i defunti, anche quelli senza nome, si chiama rispetto, ha detto Battaglia. È la cifra della civiltà di un popolo. Quello che è successo è un fatto increscioso. Presente il sindaco Manfredi, che ha partecipato alla cerimonia. La procura per precauzione ha sequestrato tutto il cimitero monumentale per fare una valutazione delle condizioni di sicurezza generali. Il comune sta seguendo con grande attenzione la questione. ha dichiarato il primo cittadino che ha anche sollecitato gli organi competenti ad accelerare gli accertamenti sul DNA dei resti umani affinché si possa ripristinare al più presto lo stato dei luoghi. Palloncini bianchi e preghiere per Antonio Morione. Il pescivendolo di Bosco Reale è ucciso all'antivigilia di Natale ad un mese da quell'efferato omicidio. Familiari e cittadini sono scesi in piazza con l'associazione Libera. Palloncini bianchi e candele accese per ricordare Antonio Morione il pescivendolo di Bosco Reale ucciso all'antivigilia di Natale dai rapinatori che gli avevano rubato l'incasso. La cerimonia organizzata dall'associazione Libera contro le mafie si è tenuta all'esterno della pescheria di Antonio in Via della Rocca dove è stato allestito un tavolino con un libro in cui chi vorrà potrà lasciare un pensiero di solidarietà e vicinanza alla famiglia. Un mese dopo quell'esterato delitto purtroppo i suoi assassini sono ancora liberi. Dopo 30 giorni ancora non c'è stata quella svolta nelle indagini che qui tutti si attendono. Un segnale per ridare speranza a una città sempre più scossa dalla presenza di clan camorristici ed episodi di violenza. Presente anche Ciro Cozzolino, il parroco della Chiesa Santissima Trinità di Torre Annunziata e il referente di Libera del Comune Oplontino che ha invitato i cittadini a ribellarsi ai clan e alla violenza. I familiari di Morione hanno partecipato con il dolore nel cuore per chiedere un maggiore sforzo nell'individuazione dei responsabili della morte di una vittima innocente. Ad accendere il cero della giustizia il figlio di Antonio, Tancredi Morione, mentre il sindaco di Bosco Reale Antonio Diplomatico ha ricordato che il Comune ha deliberato il rimborso delle tasse per la famiglia del pescivendolo. Un piccolo gesto di vicinanza, ha detto, rispetto ad una tragedia immane. Intorno alle 6 di questa mattina i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti presso il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli. A poca distanza l'uno dall'altro due giovani, un ventenni e un ventottenni, hanno chiesto di essere soccorsi perché feriti alle gambe da colpi di arma da fuoco. Secondo una prima sommaria ricostruzione, ora al vaio dei militari sarebbero stati feriti in zona Mergellina. Indagini in corso per chiarire la dinamica e i due giovani non sono in pericolo di vita. In Irpinia, Giovanni Limmata, imputato con la fidanzata Elena Gioia dell'efferato omicidio del suocero lo scorso aprile, oggi nel carcere di Bellizzi Irpino, ha tentato il suicidio, forse in un momento di sconforto, procurandosi dei profondi tagli agli avambracci alla gola, utilizzando il coperchio di una scatoletta di tonno. Grazie all'intervento del personale della Polizia Penitenziaria, che con l'ausilio dei compagni di detenzione dello stesso giovane lo hanno contenuto e si è evitato il peggio. A denunciare l'episodio, il sindacato di Polizia Penitenziaria del Sappe. Andiamo nel Sannio. Lo studio del CNR sulla pandemia consegna dati incoraggianti per la provincia di Benevento, ma al Sampio ci sono nuovi ricoveri e Mastella si dice preoccupato per la pressione sull'ospedale. Vediamo. Dopo il picco nel Sannio finalmente si assiste alla decrescita dei contagi da Covid-19. Lo conferma anche lo studio del CNR sull'andamento della curva delle epidemie nelle diverse province italiane. L'analisi del matematico Giovanni Sebastiani del Consiglio Nazionale delle Ricerche inserisce Benevento tra le città ormai in decrescita. E guardando ai dati ci sono 365 nuovi contagi rilevati dal monitoraggio dell'ASL mentre in ospedale non si segnalano né decessi né dimissioni ma ci sono sei nuovi ricoveri nel padiglione Santa Teresa della Croce. I posti letto occupati ora sono 76 sui 103 disponibili e il sindaco di Benevento Clemente Mastella rilancia l'appello alla prudenza nella consueta telefonata domenicale ai cittadini. Questa Omicron poi non è una semplice influenza che qualcuno tenta di accreditare. È un'influenza molto molto pericolosa che rimane in campo con tanti morti che come vedete si verificano. Poi giudica confuse le norme emanate dal governo riguardo all'obbligo di Green Pass e rifletti ancora sulla crisi economica. Il governo ha varato nuove norme però l'idea sono norme un po' caotiche quelle che il governo ha messo in piedi ha messo in atto. È una scelta evidentemente quella che è stata fatta molti da questo punto di vista si rammaricano per questo tipo di scelte però siamo in una sorta di lockdown di fatto mascherato diciamo la verità. È un paese che è ancora in emergenza l'inflazione che galoppa e stringe gli spazi hanno dato poco secondo me da parte del governo a ristoro per quanto riguarda coloro i quali si trovano nel mondo del commercio nel mondo dell'artigianato. Al Moscati di Avellino torna il Covid in corsia tre pazienti del reparto di ematologia sono stati trasferiti nelle aree Covid intanto l'ASL prosegue con gli open day senza prenotazione vediamo Il Covid corre nelle corsie degli ospedali tre pazienti risultati positivi al Moscati di Avellino nel reparto di ematologia guidato da Antonio Maria Risitano immediatamente scattato il protocollo di emergenza predisposto dall'azienda ospedaliera guidata da Renato Pizzuti i pazienti positivi sono stati isolati e trasferiti in area Covid ma il virus colpisce anche il personale sanitario e gli impiegati della città ospedaliera infettati almeno tre primari e anche il direttore sanitario Lanzetta intanto nel pomeriggio al Moscati dove attualmente sono ricoverati 43 pazienti nelle aree Covid è morta una 86enne di Frigento capitolo vaccinazioni pediatriche ad oggi sono 11.324 circa il 50% della popolazione residente i bambini che hanno aderito alla campagna vaccinale ma di contro i Novax over 50 resistono sulle loro posizioni refrattarie al punto che l'Aslo oggi ha fatto il bis con l'Open Day senza prenotazione proprio per smaltire le dosi che non hanno sfruttato gli ultra 50enni l'iniziativa è in programma anche domani quelli che sono ancora resti gli consiglierei di farla comunque perché comunque è una tutela alla salute propria e alla salute degli altri io sarei per l'obbligo sicuramente che lo facessero perché si facessero un giro comunque nelle terapie intensive cioè io sono preoccupata per mia madre che praticamente non ha ancora seconda e terza dose e loro che hanno la possibilità di poterlo fare invece rischiano a tutto spiano di provvedere al più presto a farlo perché comunque è brutto avere il covid noi l'abbiamo avuto si che ha detto ragazzi se c'è la possibilità vado a farmi questa terza dose così mi tolgo questo pensiero e almeno siamo un poco più tranquilli Al Ruggi di Salerno una donna di 57 anni positiva al covid ha partorito due gemelli ed è stata contestualmente salvata da un arresto cardiaco vediamo Una bellissima notizia dopo settimane difficili sul fronte covid è quella che arriva dall'ospedale Ruggi di Salerno dove una donna di 57 anni positiva al covid ha dato alla luce due gemelli una gravidanza difficilissima ma lieto fine nonostante i tanti problemi la donna infatti è stata colpita da un edema polmonare che ha messo a rischio la sua vita e quella dei piccoli grazie al lavoro dell'equip del reparto gravidanza a rischio guidato dal dottore Mario Polichetti sono venuti alla luce i due neonati di un chilo e mezzo e un chilo e 250 grammi entrambi sono stati trasferiti al Monaldi di Napoli ma sono in buone condizioni la mamma invece è andata in arresto cardiaco per una emorragia post parto ma è stata rianimata ed ora è in discrete condizioni di salute i medici del presidio ospedaliero salernitano hanno ribadito quanto la vaccinazione sia importante per tutelare la salute delle gestanti intanto si è concluso lo screening su tutti i bambini della costiera amalfitana oltre 50 gli studenti infetti i sindaci della Divina hanno rivendicato la scelta di ritardare di due settimane il rientro in classe intanto nel salernitano resta alta la guardia sul fronte dei ricoveri in ospedale l'emergenza è grossa è inutile negarlo da questo punto di vista bisogna dire che l'omicron ha fatto veramente si sta diffondendo in una maniera incredibile lo stiamo vedendo soprattutto comincia a colpire anzi sta colpendo in prevalenza anche le fasce di età più giovani che prima erano preservate ad Avellino il partito democratico nella bufera da Roma arriva la conferma che 2700 tessere sono state acquistate con le stesse carte di credito risalenti a una società irlandese il Nazareno avverte pronti ad agire nelle sedi giudiziarie vediamo carte di credito acquistate da una società irlandese è una delle tante anomalie che vengono fuori dopo le verifiche fatte dalla segreteria nazionale sul tesseramento di Avellino del partito democratico ieri è arrivata al commissario della federazione irpina Michele Bordo e ai segretari una nota firmata da Marco Meloni coordinatore della segreteria PD e da Stefano Vaccari responsabile nazionale organizzazione è stato accertato che 2657 transazioni sono state costruite con l'avallo di carte di credito con le stesse identità tali carte di credito risultano emesse dalla Soldo Financial Service Ireland DAC una società che ha organizzato questo sistema di transazioni il PD nazionale avverte il rischio di minare la regolarità e la serenità del tesseramento poiché tali eventi sono idonei a procurare documento all'immagine e alla credibilità del PD di Avellino pertanto si invita il commissario Bordo a procedere alla certificazione della platea degli iscritti depurata dalle transazioni tossiche e di deliberare il congresso provinciale entro e non oltre il 31 gennaio non solo il PD avverte pronti a tutelare la comunità politica nelle sedi appropriate è il tempo che a queste persone vada indicata la porta e accompagnata all'uscita perché il PD è un partito delle regole e quindi è il minimo sindacale per poter essere iscritti rispettare regole e procedure in trasparenza ad oggi però il parlamentare pugliese chiamato a dirimere la questione irpina non ha ancora ufficializzato la data del congresso nel frattempo in consiglio comunale arrivano i primi contraccolpi della vittoria di buono pane alle provinciali implode il gruppo ora Avellino che fa riferimento al consigliere regionale Livio Petitto è indubbio che ci sono continui smottamenti e terremoti in quella che il sindaco continua devo dire solo lui a definire una solida maggioranza Buone notizie per l'aeroporto di Salerno dopo l'ok alla progettazione per il terminal passeggeri via libera anche ai collegamenti infrastrutturali per raggiungere lo scalo vediamo Non solo il via libera alla progettazione del terminal passeggeri annunciato da Gesac in questi giorni un'altra importante notizia per l'aeroporto di Salerno è arrivata dal governo via libera infatti al piano infrastrutturale per i collegamenti della viabilità come annuncia la senatrice del Movimento 5 Stelle Felicia Gaudiano Dopo anni di battaglie del Movimento 5 Stelle e che ho portato avanti personalmente con un ordine del giorno approvato al DL Fondone siamo molto soddisfatti nell'apprendere che il governo si impegna formalmente a completare il collegamento ferroviario tra Salerno e aeroporto di Ponte Cagnano lo apprendiamo dal documento strategico sulla mobilità ferroviaria di persone e merci che il governo ha trasmesso alle camere e che evidenzia come la mobilità ferroviaria diventerà un elemento chiave per lo sviluppo dell'accessibilità realizzando 11 nuovi collegamenti con i vari aeroporti tra questi rientra il collegamento Salerno a Reche e aeroporto di Ponte Cagnano per l'esponente pentastellata un importante passo avanti che consentirà ai turisti di fruire pienamente del territorio finalmente i turisti che transiteranno dall'aeroporto potranno così accedere comodamente a tutta la costa e alle aree interne della provincia di Salerno attraverso il trasporto ferroviario portando sviluppo per il territorio e servizi per i cittadini Nel Sannio riesplode la crisi del latte la Coldiretti riunisce gli allevatori che non riescono a fronteggiare i costi ormai insostenibili e i prezzi del prodotto alla stalla ancora troppo bassi vediamo Costi di energia e materie prime insostenibili e prezzi del prodotto ancora troppo bassi una situazione che preoccupa gli allevatori e la crisi del latte aggravata in modo esponenziale dalla pandemia che rischia di distruggere un pezzo di economia del Sannio come spiega il presidente dell'associazione allevatori Campania Molise Davide Minicozzi purtroppo la pandemia e tutte le conseguenze stanno dando sferrando un duro colpo alla zootecnica in questa provincia noi stiamo calcolando che quest'anno un'azienda media spenderà 10.000 euro in più solo di elettricità quindi questo graverà tantissimo sul bilancio aziendale raccogliamo giornalmente un grido d'allarme che viene dal basso le aziende non ce la fanno purtroppo il latte stenta ancora a salire di prezzo siamo ancora al di sotto dei 40 centesimi la carne al di sotto dei 3 euro in alcuni casi e infatti solo qualche giorno fa il presidente di Goldiretti Benevento Gennarino Masiello insieme al direttore Gerardo Dell'Orto ha riunito una rappresentanza degli allevatori sanniti per affrontare l'emergenza del prezzo del latte alla stalla Minicozzi non esclude altre iniziative e lancia un appello ai consumatori Ci saranno delle iniziative a breve però una grande mano ce la devono dare i consumatori devono comprare locale devono comprare carne e latte locale i caseifici che trasformano latte di questa provincia sono tantissimi aiutiamo loro perché aiutando loro aiutiamo davvero poi anche chi giornalmente si alza dalla mattina alla sera e mette in campo un duro lavoro e porta poi economia alla provincia Grave crisi idrica in queste ore a Salerno nella notte intorno alle due e mezza esplosa una conduttura in via Vietri scattato l'allarme sul posto sono intervenuti i tecnici di Salerno Sistemi la partecipata del comune che gestisce il servizio disagi per migliaia di cittadini nella zona orientale in particolare nel quartiere Torrione rubinetti a secco per tutta la notte anche questa mattina enormi le perdite d'acqua registrate con un vero e proprio fiume che ha invaso la carreggiata la rottura è stata importante si è reso necessario chiudere anche la strada inevitabile il disappunto e i disagi per i salernitani che hanno dovuto arrangiarsi per fronteggiare l'emergenza idrica ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale in regia Aldo Fenizia grazie per averci seguito una buona serata grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.